Oggi, su Canale 5, il concerto di Natale con Federica Panicucci, ospiti e cantanti in scena. Il 25 dicembre 2023, la trentunesima edizione del concerto di Natale arriva su Canale 5 con Federica Panicucci come protagonista. In passato, l'evento è stato girato in Location Vaticane, ma quest'anno si è tenuto il 16 dicembre all'Auditorium Conciliazione di Roma. Artisti e ospiti in vista alla Notte Musicale di Natale per la Pace, organizzato da Prime Time Promotion, con il patrocinio di istituzioni come Roma Capitale e la Fondazione Culturale ed Educativa, il concerto promette un cast internazionale di alto livello. Sul palco si esibiranno artisti come Riccardo Cocciante, Albano Carrisi, Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Alessia, i gemelli di Guidonia, Raiz, Matteo Romano, Cristoforo Croce, Giussi Ferreri, Alex Britti, Marcella Bella, Alin Stoica, Vittoria Modesta, il coro gospel dello Stato della Virginia e il piccolo coro Le Dolcinote. Progetti benefici del concerto di Natale 2023. Oltre alla serata musicale, l'evento darà spazio a progetti benefici, sostenendo il Girls Shelter di Freetown, Sierra Leone, un rifugio del centro Fambul Don Bosco che assiste ragazze coinvolte in sfruttamento sessuale o prostituzione. Le donazioni a Don Bosco Mission tramite SMS o chiamata contribuiranno a sostenere questo progetto. Artisti di fama internazionale si uniranno agli orchestrali italiani e all'Orchestra del Cinema Italiano, diretta da Adriano Pennino, sul palco insieme ai presentatori. Artisti di fama internazionale